Oltre 26.000 casi di abusivismo in Sicilia negli ultimi otto anni, più di 6.000 in provincia di Catania, quasi 5.000 a Palermo e Messina. Dal punto di vista della cubatura, invece, nelle province siciliane i casi di abusivismo più grossi si sperimentano nel Nisseno con una media di 509,81 metri cubi di abusi. Dietro la provincia di Caltanissetta c'è quella di Agrigento, dove i casi di abusivismo hanno un valore medio di 508,31 metri cubi. I dati sono contenuti in un report pubblicato in questi giorni sul sito del Dipartimento regionale dell'Urbanistica. Nel documento, i tecnici regionali passano a uno a uno i comuni siciliani e le province, elencando i dati sull'abusivismo edilizio dal 2009 al 2017. In provincia di Ragusa, gli immobili abusivi sono 1.020 con una media di 404,72 metri cubi di abuso, Modica con 279 unità e il comune con maggiori casi di abusi. Dietro ci sono i comuni di Scicli, 245, Pozzallo, 129, Ragusa, 89 e Ispica, 74 costruzioni abusive. Il dato ebleo è al di sotto della media regionale, ma pur sempre consistente. Agrigento, una delle realtà più critiche, con 2.680 casi di abusivismo e un volume medio di 508 metri cubi. Il comune, con il numero più alto di abusi, è proprio la città dei templi insidiati a breve distanza dalle case abusive. Nelle Siracusano, dove sono stati contati 1.899 casi di abusivismo edilizio, è lo stesso comune capoluogo ad avere il record di opere abusive con 590 casi. Segue il comune di Avola con 162 immobili abusivi, quello di Augusta con 160 episodi di abusivismo, noto con 155 casi e Priolo, Gargallo con 120 costruzioni irregolari. In tutta la provincia la media di metri cubi è di 333,87.